Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Il file di cui parleremo oggi è forse il più inquietante e meno conosciuto che io abbia mai portato sul canale. Il video sarà un po' diverso dal solito, cercherò di raccontarvi la storia nel modo più completo possibile e quindi per chi non è abituato sarà un video un po' lungo. Ma so che i video lunghi vi piacciono ancora di più, quindi mettetevi comodi e iniziamo. Ah no, aspettate. Su Pampling ovviamente trovate le magliette che indosso nei video e ricordate il codice a Andrew per avere delle calze in omaggio. Adesso iniziamo davvero. Questo era Randy Starr, uno youtuber conosciuto per lo più con il suo pseudonimo di YouTube, Andrew Blaze. Randy è nato il 17 settembre del 1992 in Pennsylvania ed era completamente ossessionato da due cose. Il cartone animato Danny Phantom, che forse conoscete, e il tragico evento avvenuto nella scuola di Columbine. Ciò che rende questo caso particolarmente disturbante è il fatto che Randy ha filmato l'intero processo che lo ha portato a commettere un gesto terribilmente angosciante. Riguardando i filmati di Randy è possibile notare a posteriori una lunga scia di indizi inquietanti mentre preparava il suo piano finale. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'inizio. Randy si era approcciato per la prima volta a YouTube nel 2008. Aveva creato un canale chiamato Pioneer Productions, nel quale pubblicava dei normali gameplay, video nei quali filmava se stesso intento a giocare a dei videogiochi. A volte recitava anche delle piccole scenette comiche, nelle quali giocava con una rana giocattolo e una balena peluche. La piattaforma di YouTube non era ancora quella di oggi, e Randy con il suo piccolo pubblico stava comunque cominciando a diventare conosciuto da chi frequentava la piattaforma. Tanto che addirittura uno dei più famosi YouTuber dell'epoca, Ray William Johnson, lo citò in un suo video. Randy era persino amico di Plasma Master Dawn, un altro YouTuber molto famoso, e non ditemi che non sapete chi è. Randy continuava a pubblicare video costantemente, e mentre la sua fama cresceva, i contenuti dei video cominciavano a cambiare. Come abbiamo detto, era ossessionato dal cartone animato trasmesso all'epoca su Nickelodeon, Danny Phantom. L'intero cartone era basato sulle avventure del personaggio principale, Danny Phantom. Nel cartone, Danny è diventato un ibrido tra un fantasma e un umano, dopo un incidente avvenuto con un portale tra il mondo umano e un mondo parallelo chiamato Zona Fantasma. È proprio in questo cartone che Randy vede per la prima volta il personaggio di Amber McClane. Il ragazzo sosteneva che nonostante fosse un cartone, durante gli ultimi anni delle elementari, lui fosse completamente innamorato di lei. Ha detto che non appena l'ha vista, ha sentito subito qualcosa a cambiare in lui. All'inizio pensava che fosse solo una fase, ma crescendo, questa ossessione per Amber non sembrava andarsene. Randy comincia così a creare una sua serie animata ispirata ad Amber, chiamata Amber's Ghost Squad. E quella che era iniziata apparentemente come una normale passione, stava per trasformarsi in qualcosa di molto più inquietante. Sempre col senno di poi, i segni che qualcosa non andava in Randy erano già evidenti nei suoi primi anni di vita. Da bambino è stato descritto come un ragazzo molto timido, ma che voleva comunque a tutti i costi degli amici. Fin qua nulla di troppo strano, ma Randy diceva di avere strani pensieri sulla morte già alle elementari. Fantasticava sul fatto che avrebbe voluto salire a bordo di un aereo per poi schiantarsi morendo istantaneamente. La morte era un tema ricorrente nei suoi giochi da bambino, e ciò rende i video della sua infanzia ancora più inquietanti. La sua solitudine lo avrebbe seguito fino alle scuole superiori, nonostante lui stesso diceva di avere alcuni amici. Fu durante questo periodo che sembra chiedere aiuto inconsciamente. Inizia ad avere dei comportamenti strani, ad esempio nei temi in classe, inizia a scrivere storie in cui i personaggi sarebbero morti in modi raccapriccianti. Una cosa assolutamente anormale per un ragazzo della sua età, e che avrebbe dovuto far scattare un campanello d'allarme a qualcuno. Lui stesso dice che non riusciva a credere che ai suoi insegnanti non importasse nulla. Era sbalordito. Ben presto Randy iniziò a investire più tempo nel canale Pioneer Productions, e non passò molto tempo prima che quel canale divenne la sua passione nella vita, prendendo praticamente tutto il suo tempo. Fu durante questo periodo che Randy si isolò ancora di più. Era quasi sempre da solo nei suoi video, e qualcosa sembrava essere cambiato negli ultimi anni del liceo. Iniziava a prendere voti sempre più bassi mentre si avvicinava al diploma, e diceva inoltre di odiare il suo lavoro al supermercato Waze. Fu in questo periodo che accadde un evento che lo avrebbe stravolto e cambiato per sempre. Uno degli amici di suo fratello, un certo Tom, muore in un incidente d'auto. Anche se non lo conosceva molto bene, diceva che la sua morte lo aveva davvero colpito, e in lui stava crescendo una fissazione potente per la morte, che lo avrebbe portato a iniziare una strana tradizione. Ogni anno, durante il giorno della morte di Tom, faceva lo stesso percorso che fece lui prima di morire. A questa tragedia se ne aggiunse un'altra. Poco dopo, anche uno dei suoi amici, Matt, morì sempre in un incidente d'auto. Sul suo diario, quel giorno ha scritto Non molto tempo dopo, lo stesso Randy avrà un incidente d'auto. Nulla di grave, ma per lui questo fu un evento che lo segnò ancora di più. Iniziò a fissarsi sulla paura di invecchiare, portandolo a provare un forte disgusto per le persone anziane. Inoltre, prese la malsana decisione di non voler vivere oltre i 30 anni, perché secondo lui era inutile. Nello stesso periodo, Randy stava sviluppando altre strane idee riguardanti Amber, il personaggio di cui si era innamorato. Sul suo diario scrisse, Mi manca la mia forma da cartone animato. I corpi in questa dimensione sono tollerabili, ma non sono niente in confronto alla mia dimensione. Si stava convincendo che una volta morto, sarebbe tornato nella sua vera forma, ovvero una ragazza fantasma animata, proprio come Amber. Passando a miglior vita, secondo lui, avrebbe vissuto con i personaggi immaginari che aveva creato in Amber's Ghost Squad. Per lui questa era la sua grande realizzazione, perché lui non apparteneva a questa terra. In realtà, era una ragazza fantasma, e l'unico modo per tornare a ciò che era davvero, era morire. Comincia così anche a lottare con la sua identità di genere. Inizia a indossare spesso reggiseni e indumenti femminili. Dentro di lui Randy stava iniziando a sentirsi donna. Inizia a rubare spesso i vestiti alla madre, e comincia a vestirsi sempre così quando nessun altro è in casa. Scrive inoltre nel suo diario, Mi siedo qui, da solo sul mio letto, pieno di vuoto. Indosso i miei vestiti da ragazza, con le gambe incrociate. Perché sono stato condannato a passare 10 o 20 anni in questo corpo disgustoso? E ancora, non sono un uomo. Scusate mamma e papà, ma non mi dispiace. Sono una donna. Ogni giorno che passa, diventa sempre più dura vivere in questo corpo. Indosso la mia maglietta da donna, con il mio reggiseno, mutandine e leggings neri dell'American Eagle. Il termine corretto sarebbe transgender, ma non sono nemmeno completamente d'accordo su questo. Sono una ragazza legittima, intrappolata nel corpo di un ragazzo. Sono un'anima femminile. Randy ha iniziato a cambiare il suo aspetto, per assomigliare sempre di più alla ragazza fantasma che credeva di essere. Inizia quindi a saltare i pasti quando può, così da perdere i muscoli che lo facevano sentire a disagio. Era sempre più sorpreso che la sua famiglia non si accorgesse di nulla. Si radeva tutti i peli con un rasoio da donna. Inizialmente lo nascondeva nella sua stanza, ma poi decise di lasciarlo in giro per casa. Ancora una volta, non poteva credere che nessuno se ne fosse accorto e gli avesse fatto qualche domanda in merito. Cominciava a sentirsi sempre più spaisato e durante una live nel 2014, tre anni prima di quello che poi avrebbe commesso, improvvisamente annuncia che avrebbe lasciato YouTube, ma non sapeva con precisione né come né quando. Diceva che l'unica cosa che gli importava davvero era il suo canale YouTube. Laurearsi al college in comunicazioni era stato uno spreco di tempo assoluto, perché diceva che non avrebbe mai lavorato in quel campo. Anche se YouTube era la sua più grande passione, dopo sei anni, ancora non era in grado di sostenersi solo con quello. Era frustrato di dover trovare per forza un altro modo per guadagnarsi da vivere. Racconta anche di quanto odiasse il lavoro al supermercato, ma che doveva per forza continuare a farlo per guadagnare qualcosa. Nonostante tutte le cose negative che Randy disse in quella live, dirà poi in seguito che il 2014 è stato per lui uno dei suoi anni migliori. Infatti si distrasse parecchio. Tuttavia non passò molto tempo prima che ricominciasse a sentirsi davvero insoddisfatto della sua vita. Passarono tre anni in questo stato e nel 2017 decide che quell'anno sarebbe dovuto arrivare la sua ora. Prima di fare qualsiasi cosa, però, Randy si mette in testa che non poteva lasciare il suo cartone inconcluso e doveva anche procurarsi un'arma. Dettagli. Randy cercava una data simbolica per il suo piano e così, in base alla codifica delle lettere EGS che erano le iniziali del nome del cartone, stabilisce che dovrà essere il 5 luglio del 2019. Col passare del tempo, però, si rende conto che non sarebbe riuscito ad aspettare due anni per portare a termine il suo piano. Voleva porre fine alle sue sofferenze, così da poter finalmente diventare la ragazza fantasma che viveva in lui. You know, this is it. Just under two weeks to live. You got two weeks to live. What do you do? Tired of the same old routine. Tired of everything but my girls. It's really it. Nel frattempo, Randy comincia a registrare dei video che sarebbero stati agghiaccianti per quelli che li avrebbero visti più tardi. Pianificava di pubblicarli online poco prima di portare a termine il suo piano. Il suo diario parlava di quanto odiasse l'umanità e di come fosse narcisista, al punto di guardare e riguardare i suoi stessi video. Oltre a questo, in moltissime pagine c'erano continue digressioni sugli avvenimenti della Columbine, di come quella storia lo avesse affascinato, in modo maniacale, e di come sentisse una strana connessione speciale tra lui e uno dei due ragazzi responsabili. Il suo obiettivo di finire il progetto di animazione prima della sua morte, però, non stava andando molto bene. Si è lamentato nel suo diario del fatto che i doppiatori che aveva assunto non stavano andando abbastanza veloci. Si era anche arrabbiato moltissimo quando uno di loro non voleva lavorare al suo progetto perché non era a suo agio con il tema. E considerando che si chiamava The Westbrook High Massacre, non era molto strana come cosa. Nessuno rispettava le scadenze e Randy non ne poteva più. Non poteva più aspettare. Acquista così due fucili e nel suo diario quel giorno scrisse Sei stata una pazza a fidarti di me con quel fucile. Oh madre, se solo ti rendessi conto che hai appena firmato la mia condanna a volte portandomi in quel negozio di armi. Randy gira anche dei video nei quali si esercitava a sparare nel cortile di casa sua. Era con qualcun altro che reggeva la telecamera e lo filmava. Non sappiamo chi lo stesse filmando esattamente. E viene spontaneo chiedersi come non abbia potuto rendersi conto che c'era qualcosa di strano in Randy. Nel video indossava addirittura la stessa maglietta che indossava uno dei due ragazzi della Columbine. Piccolissima red flag proprio. Quello che accade dopo ha dell'incredibile. Randy inizia a lasciare intenzionalmente dei fogli e dei tweet nei quali scriveva che stava pianificando qualcosa e che la data in cui l'avrebbe fatto sarebbe stata il 7 giugno. Come ogni cosa fatta da lui in precedenza anche adesso sembrava non interessare nulla a nessuno. Nel suo diario scrive persino che era preoccupato e deluso del fatto che i suoi genitori non si accorgessero che stava progettando qualcosa. Continuava anche a mettere quella maglietta in giro per casa ma nulla. Si chiedeva spesso nel suo diario se anche lui avrebbe avuto dei fans ossessionati da lui e diceva quanto questa idea gli piacesse. Si incomincia a convincere che uno dei suoi personaggi immaginari che aveva creato McKenzie fosse la sua anima gemella. Quindi pubblica un disegno in cui lui in versione ragazza fantasma e McKenzie si tengono per mano e nella descrizione scrive amo questa ragazza. Crea anche molti account twitter uno per ogni personaggio della sua serie. Incomincia a pubblicare tweet scrivendo con il loro carattere e facendo finta di essere proprio loro. Il 18 maggio del 2017 in dei tweet scrive se pensi che il tuo corpo sia pronto per il 7 giugno allora stai commettendo un grave errore. E ancora pochi giorni dopo 17 giorni l'hai segnato sul calendario hashtag grandi cose. Mancavano sempre meno giorni e Randy continuava a pubblicare cose strane dai suoi account. Probabilmente la gente non ci faceva caso perché pensava che fosse soltanto tutto parte di una fantasia. Credevano che i personaggi immaginari pensassero quelle cose solo nella storia che si era immaginato peccato che per Randy la storia del suo cartone animato era fusa con la realtà. A questo punto Randy era completamente perso nel suo mondo immaginario e convinto che sarebbe morto e tornato sotto forma di uno dei suoi personaggi. Le cose si fanno ancora più agghiaccianti. Randy decide non solo che si sarebbe ucciso ma anche che avrebbe portato qualcuno con lui. Decide così che avrebbe commesso un massacro al supermercato dove lavorava oppure si sarebbe semplicemente tolto la vita a casa sua da solo. La cosa più disturbante è che per decidere dove farlo Randy lancerà una monettina lasciando così scegliere totalmente al caso. So, you believe in fate? Here's the fate test. If it's heads I'll do it here. If it's tails supermarket. Not gonna touch it. You will see it as I see it. If I can find it there it is. It's tails That's the tails. See that? Which means there's gonna be a loss of a human life besides my own. Possibly more than one. Esattamente in questo modo agghiacciante, freddo e disumano, un lancio di una moneta, Randy decide il destino di persone totalmente innocenti. Il primo giugno del 2017 pubblica un post nel quale scrive che avrebbe avuto bisogno dell'aiuto dei suoi fan e che dovevano tenersi pronti il mercoledì successivo. Voleva che qualcuno registrasse una live che avrebbe fatto quel giorno. Nelle prime ore del mattino del 7 giugno, Randy gira un video strano e inquietante del Waste Market, il supermercato dove lavorava. Quel posto in cui aveva lavorato per ben sette anni e che da lì a poco si sarebbe trasformato in una scena del crimine. Nel video sembra che stia analizzando il negozio, ispezionando tutti i possibili punti di fuga. La notte del 7 giugno, a poche ore da quell'orrore, Randy pubblica il suo ultimo video su YouTube, il suo grande e ultimo progetto di animazione. All'inizio si vede lui mentre carica i suoi due fucili. Li chiama i gemelli Mackenzie e Rachel per via dei suoi personaggi animati. Ancora una volta aveva fatto questa cosa per via dei ragazzi della Columbine perché anche loro fecero la stessa identica cosa. Nello stesso video poi dirà questa frase Sono stato calpestato per tutta la mia vita. Non accadrà più. Ne ho abbastanza di questo pianeta putrido e lascerò il mio segno. È impossibile capire se Randy lo stesse davvero facendo per rinascere nel corpo della ragazza che era convinto di essere o stava semplicemente cercando di ottenere le attenzioni che desiderava da sempre. Non c'erano più mezzi riferimenti. Ormai era chiaro e poteva ancora essere fermato ma nessuno fece nulla. Ancora una volta a nessuno interessava. Era ormai chiaro che stava per accadere qualcosa di brutto. L'8 giugno infatti Randy stava facendo come ogni volta il suo normale turno di notte al negozio. Nel negozio c'erano anche altri quattro dipendenti che sistemavano gli scaffali prima di chiudere. Era ormai passata la mezzanotte e il negozio era tranquillo. Erano tutti molto stanchi e non vedevano l'ora di finire il turno e tornare a casa ma nessuno di loro si era accorto che Randy in realtà non stava facendo il suo lavoro. Invece di aiutare a chiudere il negozio e sistemare gli scaffali stava barricando ogni uscita possibile con delle tavole di legno intrappolando tutti all'interno. Cammina tranquillamente verso le uscite di emergenza e le blocca prima di tornare a pulire. Quando si ferma di nuovo nessuno dei suoi colleghi ci fa caso. Randy era al telefono e pubblicando post con tutti i dettagli di quello che avrebbe fatto di lì a poco. Su uno dei suoi account Twitter ha caricato un video chiamato Journal e uno chiamato Suicide Tapes. Alle 22 ha anche twittato con l'account di McKenzie Spero che siamo stati in grado di farti passare la giornata. Odio sempre gli addi ma è più un ci vediamo più tardi. Grazie. McKenzie Poco prima dell'una di notte twitta anche con l'account di Rachel e scrive Io e Andrew stavamo per dare al mondo una piccola intuizione su ciò che si nasconde veramente intorno all'ombra della vostra vita quotidiana. Non appena era sicuro che i suoi video e i tweet fossero online Randy comincia il suo piano. Ormai tutti potevano vedere su internet quello che avrebbe fatto mentre i suoi colleghi intrappolati all'interno di quel negozio con lui erano completamente all'oscuro. Intorno all'una di notte con le porte sul retro dell'edificio tutte bloccate Randy si dirige verso l'ingresso principale del negozio dove chiude le porte d'entrata a chiave. Quindi estrae i due fucili a pompa che aveva nascosto nella borsa. Randy aveva portato con sé due armi così se una di loro si fosse rotta o inceppata avrebbe comunque potuto portare a termine il suo piano. Si era preso molto cura dei dettagli per assicurarsi che tutto andasse secondo i suoi piani. Randy a quel punto in modo molto calmo inizia a camminare per il negozio con i fucili carichi. Riguardo a quello che sta per accadere ci sono due versioni diverse. Vedo e racconterò entrambe così potete farvi un'idea. Ma attenzione quello che sto per raccontarvi è davvero terrificante. Nel negozio come abbiamo detto erano presenti altre quattro persone. Victoria di 25 anni Brian di 47 anni Terry di 63 e Kristen di 25. Secondo Kristen in quel momento si trovava nello stesso corridoio di Victoria e stava rifornendo gli scaffali insieme a lei. Entrambe le ragazze avevano le cuffie con la musica ad alto volume. Victoria si allontana un attimo per prendere una pila di etichette completamente ignara di quello che stava per accadere. Randy infatti nel suo diario aveva scritto non odio Victoria ma deve morire. All'improvviso Kristen sente due colpi seguiti da un tonfo. era Randy che aveva appena s*****o a Victoria ferendola prima al petto e poi da dietro alla base del cranio. Kristen quindi si gira per vedere cosa fosse successo e vede Randy in piedi in fondo al corridoio. Aveva i fucili in mano e c'era Victoria distesa in una pozza di sangue ai suoi piedi. Mentre lo osserva pietrificata Randy spara altri colpi al corpo di Victoria poi alza lo sguardo e i due si guardano dritti negli occhi. Devono essere sembrati secondi interminabili per Kristen che non riusciva a muoversi dalla paura che provava. Dopo alcuni secondi però nonostante Kristen pensasse di essere già spacciata Randy si girò senza dire nulla e si diresse in un'altra corsia. Ora questo è uno dei punti in cui i racconti differiscono perché alcuni dicono che Kristen aveva stabilito un contatto visivo con Randy dopo gli spari a Victoria il che è decisamente inquietante ma la seconda versione forse lo è ancora di più. Diverse fonti hanno riferito invece che Kristen non aveva affatto sentito gli spari e secondo le riprese delle videocamere di sorveglianza dopo aver sparato a Victoria Randy raggiunge Kristen e la guarda mentre intenta sistemare lo scaffale con le cuffie rimane qualche secondo a fissarla senza che lei se ne accorgesse poi si gira e va via nella corsia successiva. Non sappiamo quale delle due versioni sia vera ma rimangono entrambe terribili ma comunque una volta cambiata corsia Randy trova Brian appena lo vede gli spara da lontano colpendogli il braccio l'inguine il petto e il lato destro della testa l'autopsia dirà poi che tre dei cinque colpi che ha subito sono stati letali una volta finito con lui Randy dà la caccia anche al suo collega più anziano che avendo sentito gli spari stava cercando di scappare purtroppo però Randy trova anche lui e gli spara due volte una alla schiena e una alle spalle secondo Kristen mentre tutto ciò accadeva lei non si era ancora mossa era rimasta paralizzata dalla paura ma quando finalmente riesce a riprendere coscienza e a muoversi corre a controllare Victoria che ormai non si muoveva più incredibilmente però era ancora viva ma in condizioni critiche Kristen capisce quindi che doveva cercare aiuto non sapeva però dove si trovava Randy era ancora là in quel negozio e poteva essere ovunque chiama quindi i servizi di emergenza dal suo telefono ma purtroppo era già troppo tardi dopo aver chiamato i soccorsi corre verso le casse del negozio e nel mentre sente ancora degli spari in lontananza non era al sicuro lì così decise di andare verso la porta di uscita mentre corre verso l'uscita dirà di averlo visto girato di spalle in una corsia una volta raggiunta la porta riesce a spostare il pallet che Randy aveva messo davanti ma c'era un problema la porta automatica non si apriva in preda al panico Kristen comincia a tirare delle spallate alla porta con tutta la sua forza e finalmente riesce a uscire anche se si sentiva sollevata di essere uscita da quell'inferno non era ancora al sicuro corre nel parcheggio per nascondersi dietro a una macchina ma appena vede quella di Randy decide di evitare il parcheggio e corre su per una collina vicino per nascondersi dietro un cespuglio mentre Kristen era riuscita a scappare Randy si trovava ancora dentro a finire il suo piano comincia così a sparare agli scaffali del negozio e comincia a spaccare oggetti in giro spara anche a delle piccole bombole di propano sperando che esplodessero per distruggere il negozio ma nulla non esplodevano continua così a distruggere oggetti fino a che decide che era giunto il momento finale con la stessa calma con cui si faceva strada nel negozio Randy va nel reparto di gastronomia dove si toglierà poi la vita in totale vennero sparati 59 proiettili tutti da uno solo dei due fucili che aveva il suo ultimo tweet è stato addio umani mi mancherete tutti i colleghi morirono per le ferite riportate tranne ovviamente Kristen che ancora oggi non ha idea del perché Randy non le abbia sparato dopo la strage gli investigatori cercano di capire le motivazioni dietro quell'atto così perquisiscono casa sua trovano sette scatole di munizioni per fucili calibro 12 occhiali da tiro protezioni per le orecchie e il calcio di un fucile confiscano tutto anche i suoi diari e il suo computer all'interno trovano tutto ciò che cercavano scavando a fondo nella sua vita emerge il fatto che Randy stava lottando con la sua identità dei genere e stava documentando tutta la sua salute mentale in declino ciò che rimane chiaro e questa cosa ha lasciato sconcertato anche me è il fatto che in qualche modo nonostante tutti i segnali nessuno si sia mai accorto del pericolo soprattutto i suoi genitori esiste una teoria sul perché avrebbe preso di mira proprio il supermercato in realtà suo padre lavorava proprio lì e i due non andavano molto d'accordo quindi questo potrebbe aver inciso sulla sua decisione in questi video finali era evidente che ormai aveva perso ogni contatto con la realtà ci sono ore e ore di video su cui riflettere con dettagli inquietantissimi si visti oggi dopo quello che è successo ed è forse questo rendere tutto questo caso così disturbante non è finita qui però si scoprirono in seguito altri dettagli abbastanza inquietanti come ad esempio che Randy un'ora prima della sparatoria aveva mandato una mail alla doppiatrice del suo cartone animato la ringraziava dicendole che aveva un ruolo molto importante nei suoi video incluso l'episodio finale ma la doppiatrice non è mai entrata nei dettagli e non sapeva quale fosse questo ruolo oltre a questo l'autopsia sul suo corpo ha rivelato che Randy al momento della sparatoria indossava un trucco nero sulle labbra e intorno agli occhi sotto i suoi vestiti indossava anche dei vestiti da donna e quella notte Randy aveva in corpo 371 millilitri di difenidramina un farmaco antistaminico che a dosaggio alto può essere fatale e causare allucinazioni e confusione infine in un'intervista del 2018 Kristen si è fatta avanti dicendo che Randy soffriva di una malattia mentale e che la persona che ha compiuto quel gesto non era più il ragazzo gentile e bravo che lei e i suoi colleghi conoscevano questi erano tutti i dettagli dell'assurda storia di Randy Starr bene questi erano tutti i dettagli dell'assurda vicenda di Randy Starr è allucinante che il suo declino sia stato registrato e documentato sul web ma è ancora più allucinante che nessuno si sia accorto di nulla l'episodio finale di Amber's Ghost Squad è ancora visibile online e si è visto conoscendo tutta la storia fa davvero venire i brividi è stata una vera e propria tragedia che poteva essere evitata in migliaia di modi e in migliaia di situazioni sperando che queste cose non accadano mai più io vi ringrazio per essere stati qui anche questo venerdì vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao andrew out grazie